Il fermo immagine del fitto conciliabolo è di quelli inediti e l'attuale guerra fredda sulle banchine del porto di Gioia Tauro lo rende suggestivo. Il milanese Antonio Testi e il crotonese Francesco De Bonis sono i manager delle due società terminaliste che controllano lo scalo. Da quando dopo 23 anni l'autorità portuale ha messo in discussione la concessione del colosso dei container RMCT, l'altra azienda insediata sul molo accanto, la BLG, che movimenta auto, è sembrata farsi sotto per avere nuove aree eventualmente liberate. La questione è che man mano che le attività si incrementano è chiaro che necessitano diversi spazi. La società di De Bonis è in forma, quella di Testi no. In questi giorni è obbligata a rispondere all'autorità portuale che vuol capire come sta utilizzando i tre chilometri di banchina. Si parla sempre faccio faccio ma chi fa da governance? A noi manca nell'area portuale una governance. Messaggio chiaro di fiducia nell'ente pubblico indagatore e forse di sfida al terminalista confinante costretto a scoprire le carte. Non ha senso di dire sì, no, quella c'era troppo, quella c'era poco. No, questo è un qualcosa che deve appunto come governance far capo all'autorità portuale. Bisogna avere quelle che sono le programmazioni, quelle che sono le idee. Agostino Pantano per la C News 24.